... Madonna Praticamente questi mondiali di... Qua da noi c'è... Vince il Marocco Marocco è esultare, avevamo detto il mio piatto Eh sai che da me ci sono tanti i marocchini Ma tanti tanti Non scusate Non sono più di più Infatti i bar erano più... Un po' come con l'Albania quando visitavo l'Albania Si, beh, si, si E' una scuola in Italia C'è, tra te lì si Poi l'Italia non è mondiale, madonna ho Ma forse si è messo a tutti i 10 le macchine Su Newton un po' Eh quello si, quello lì è un po' il problema di Newton Però ti dico, se riesci a prendere B E' bellissimo Newton, devo giocare Se riesci a prendere B, eh lì è il problema Quasi quasi, se avessi saputo che usciva Newton Faceva la classe per Newton Perché Newton su Newton Quella godissima Poi che abbiamo operato Quella è il bingo tipo Perché tanto sono stati perni... Dai pra lì ti copro Ok Vai Stric Oh Ma come sei lì la ditta è l'altra c'era? No Dai su Sì, sì, tutto mio Ah, ma adesso si cortituiamo Perché loro non riescono più a riferire Esatto Così in scioltezza Madonna con lanciamissili Da quando è uscito Fortnite la gente gioca un botto di più con lanciarazzi Ma tantissimo Perché su Fortnite è forte lanciarazzi Invece una volta su COD C'è nessuno proprio usava i lanciarazzi Perché era proprio l'arma tipica dei nabbi No, ma non puoi dissarmi così No, sto sforzando Non è che se giochi a Fortnite c'è il cazzo il cordo Altro Cerberus Ma questo io mi raccordo in mano Io non ho mai giocato a un'altra Oh là Full streak di nuovo Stai sforzando tutto Ancora con sto lanciamissili porca di quella puttana Ma veramente C'è 5-14 Ma ho ucciso tre volte con lanciamissili E mi ha morto alle strade anch'io No, finito le munizioni Che cazzo faccio Ancora mi sta lanciando lanciamissili Ma perché? Mi fa fare meno visual Mi fa schifo Mi fa nascere i lanciamissili su COD Stai me lo fa tirare sovrite Oh vaschino hai rotto i coglioni Non posso morire quattro volte Su sei da te Qui Ah hai ragione Cazzo Per adesso mi riusci a tirarla Sì 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 Aspetta va Cerco di camperarmelo un po' E prendere di nuovo Ma questo Servono per prendere B più che altro Sì sì è vero Perché così la gente non esce E tu il tempo di prendere B Sai cos'è? Io trovo che su Nuket ha un dominio Oddio c'è uno di fianco La La cosa La ricompensa più utile Sì è il Cerberus Troppo utile il Cerberus su Nuket E' fortissimo La prima volta avevo fatto una partita Quando c'era tipo La modalità solo Nuket Sì Usciva senza Tipo da Nuket Quando avevo messo Carna Cerberus C'è anche lì sul mio canale Avevo fatto tipo 150 chiusure Di cui 100 tipo di Carna Cerberus Ah può darsi che l'abbia vista Cioè molto probabilmente l'abbia vista Non ho mai usato Veramente Sento la vita Dici che aiuta no? Madonna Cerberus troppo 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 Infatti io quando giocavo col cecchino Usavo sempre Cerberus Perché se no 32 e 2 sono Cosa? A caso Madonna Io sto facendo un po' cagare Però alla fine Ci sta Ma comunque non è MSMC È la cacca Che è andata forte No come non è MSMC Che arma è? Non l'ho mai visto io quella lì allora Ah ok Sì sì l'ho visto L'ho capito L'ho tirato su Dalla carne Prova darti una mano su D Vai No No c'è uno qua dentro Ma va cagare Prendila prendila ti credo Ok sono riuscita Adesso ci piazzo il 2C4 su D No E mi sponto in piano Dio a me che ho pensato questa mappa Perché vado di breccia e C4 Ma ci vado così per primo Perché l'uno contro uno Non può chiare nessuno No cosa gli stavo per fare a questo? Io sono a 2 dal C4 Se mi riesce ad aiutare Oh Andiamo su C? Così me la prendo Aspetta Non serve Ok 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 Sto campurando malo con il breccia Nooo bastardo Sono morto un po' dall'hater Pochissimo dall'hater Ok io ho preso il Cerberus Buono Quanto più che arrivano da dietro? Ti ha preso? Ah no è 2 Nooo nooo sono morta A 110 dal Talon Fanculo Ma non come tu la fattura Dai guarda facciamo un assistente Che cosa che stavamo facendo Su Vai Anche che c'è lo shite Eh ma sai cos'è? Un magliare si messo il Il breccia Ah tranquillo Che sono io che può Che domino quel breccia Che compensi Sì Cioè se ci ho toccato Che cosa breccia Sono tutti qua fuori Oddio Eh ma io quel breccia posso far cuoco Posso solo aspettare Sì 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 Quindi per il ritorio di terra Quando arrivo mi prendo io Se no tec o meno Voi vai a prenderli Ok il mio Cerberus sta facendo Poi dei Valasti Perché ti fermi se Beh io ho tirato il Cerberus Sono a 200 Dal prossimo Cerberus Vado a fare il giro largo su A Perché sta Loro prendono C Ok prendiamo A Sono due su A però Dovamo fare con gli due stronzi Poi la prendiamo Ah stanno spionando ancora Dai io provo Aspetta No cazzo mi serviva Vado a prenderlo Ah scusi Eh oh No no vai tra vai tra No no vai tra vai tra Non c'è uno spionale su A Bene Non lo scriviamo Senza questione bene sta partita Alcocchè adesso arrivano sicuri su B H4 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 Sono tutti Sono tutti la sotto Tutti di sotto Alla prendiamo i due brecci 1 2 Bravo 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 Iterrax Bravo bravo No sono sopra 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 Eh vabbè dai Io sto laggando Non so perché crystals Il canano forti è forte brecci dai bell' male fortissimo Mi sento proprio una merda Guarda la kinca Guarda le mie tacche 2 pulite 2 tacche Era dai tempi di Black Ops 2 Io ho Hyper e Raps Vado a prendere C Anch'io Io sono a 75 punti Dal Chargorus Adesso te lo chiamo Appena vado un po' più vicino A le zone interessanti Adesso non sarà un altro video Ci rispottiamo Occhio a non strafare Sì sì lo so L'ho visto il tuo video di oggi Ok Prendiamo B E adesso su A Fai fare al Chargorus Hai app Sì Vabbè io ho preso il Talon Nel dubbio Ti hanno abbattuto l'hater Ma che maialio Non mi ha stordito Cioè Cerbrus fai quello che devi fare Ho anche alzer Haps comunque Vabbè Sto rificando anche la madonna Io aspetto Il Cerbrus fa figa troppi danni Ma poi fa casino Cioè avercelo conto a tutto Perché È suba No Figa Lesson di pica Non l'ha presa bene Ho pushato come maiali Mi sono fatto uccidere Eh infatti Te l'avete La raga guardate i video di pica Che figa Ma è No ma è vero Cioè io mi do un sacco di consigli In ultimi video Che poi io non rispetto Ma se devi rispettarsi Non è vero Oh ma mi hanno spagato il Cerbrus Ma come cazzo stanno Stanno spagando addirittura sul C Ma che cosa mi fa succedendo Allora Stanno arrivando però Eh vabbè Stanno perdendo tutte le mie raps Ce n'è uno qua Prendi lo prendi Sì che il Cerbrus sta facendo No scusate le raps Stanno facendo il panic Sono uno da senza anni Ma sono l'altro Ahia Nuclear in live Eh ma ci abbiamo troppo Troppa carne al fuoco Guarda ma quanto Ma quello sto facendo Oh lasciamo gliela prendere va Sennò qua Sì ci si Ma quella che stava sparando Al Si era quella che stava sparando All'hater Con le armi eh però Prendiamoci Al pedalacina nella prendita Oh pittana Stava morendo da sensibilizzare Distrutto lo distrutto Questo vuoi veri Ok altro Non so se sono una per lei Per l'altra Sperto che morire mi verrebbe fastidio Mi lascio questo subito Viene pure Dai faccio il giro l'altra Oh la Preso bright Mettalo Figa poco devastati questi eh No era l'uomo Stavo per morire da termite Avrei spaccato qualsiasi cosa Pegato per la fricata scura Eh però Poverini questi oh Frecchino il Wraith e il Talon Perché era finita la partita Eh dai perché Non te lo ero in culo a bicicletta io Con i ragazzi Carina sta qua Te l'ho detto che su Exodus Mi piace Eh bella questa Vabbè Bella bella Qua ci stava un bo Wuuuuh